Volevo farvi questo video perché a quanto pare su queste nuove Fire Stick non c'è l'opzione sviluppatore per poter mettere le applicazioni da fonte sconosciuta. Quindi per attivarla, perché è nascosta, bisogna andare su la mia Fire TV, informazioni e qui premere sette volte il tasto centrale. Dopodiché diventi amministratore, viene opzioni sviluppatore e qui applicazioni fonti sconosciute.